Salute mentale Da quello che ho capito finora, l'armonia tra l'espansione dell'io individuale e la società costituisce la salute mentale dell'uomo, mentre la loro disarmonia conduce alla nevrosi, che è un disturbo psichico dovuto a conflitti inconsci non risolti. E così? Commento No, la disarmonia tra l'io individuale e la società conduce, attraverso la nevrosi, ad una maggiore evoluzione. La nevrosi non è un disturbo psichico, ma una maggiore evoluzione che, da potenza, si fa atto.